Un caro saluto da Bologna, amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e grazie per l'enorme numero di visualizzazioni degli ultimi video editoriali. Cosa ci faccio a Bologna, che sembra una città di mare ma in realtà non lo è, questa è una piscina, ho raggiunto mia moglie che ha appena dato all'estante il suo secondo libro sulla realtà del metaverso, per chi fosse interessato, come dico sempre una persona seria in famiglia ci vuole, il titolo è Effetto Atlantide, come salvarci dal neofragio digitale, tema un po' complicato, noi siamo più terra a terra, a terra dove rotola il pallone. Allora, ho appena fatto il bagnetto qui in piscina non è entrato nessuno qui in hotella Bologna perché l'acqua è gelida, poi mi sono detto, ma sarà mica più intervia questa impresa di quella che attende l'Inter sulla carta Istanbul e quindi bagnetto, quindi mi sono schiarito le idee, ci manca un punto come sapete per la ufficialità della zona Champions, sono già state praticamente più o meno rese note le Final Four, si tornerà a Riad di Supercoppa Italiana, abbiamo assunto il modello spagnolo con le due semifinali e della finale, adesso si tratta di capire se una è già assodato che sia Napoli-Fiorentina, l'altra bisogna capire se sarà Inter-Milan, come mi piacerebbe, come mi piacerebbe ritrovare ancora i rosso-neri o più probabilmente Inter-Lazio, in base naturalmente a quelle che sono state le risultanze del campionato di Serie A e della manifestazione della coccarda tricolore che naturalmente abbiamo vinto, voi pensate che io non giri senza coccarda? Devo averla ancora la coccarda perché so che ci sono i fan della coccarda e naturalmente adesso si tratta di trovarla, eccola qua, spunta sempre una coccarda e quindi ragazzi coccarda, anche qui a Bologna coccarda, vabbè ma veniamo al campionato, dove lo facciamo questo punticino ragazzi miei tra Inter, Atalanta e Torino-Inter? Per me se siamo sull'onda dell'entusiasmo potremmo farne pure sei, ma non è quello, è chiaro che ci sarà un po' di turnover, abbiamo visto l'abbondante turnover a Napoli che cosa ci ha portato e però per esempio mi aspetto in campo d'Ambrosio, mi aspetto Lukaku e Correa per cominciare la partita, tenete presente che a centrocampo, insomma oltre alla squalifica di Gagliardini che ormai odiate, io invece ho capito perché tutto sommato ha fatto qualche minuto anche in finale di Coppa Italia, io non sono mai così cattivo, Gagliardini è stato una ghiattura a Napoli, gli ho dato due in pagella, tanto ci lascerà, non c'è bisogno che ogni volta andiate giù con la clava, ma vivete serenamente, insomma ha sbagliato, se ne andrà addirittura un altro mi ha chiesto ma Skriniar ha festeggiato la Coppa? Ecco uno che ti fa una domanda idiota come questa, vuol dire che non ha mai fatto parte di un gruppo nella sua vita, ma neanche del gruppo dello scopone scientifico, perché al di là della scelta di Skriniar che ci ha fatto rimanere male, ma poi vedete che si può vivere anche senza Skriniar, non vedo perché avendo partecipato anche lui, voglio dire a questa stagione al di là delle scelte che ha fatto, cosa fai? Non gli dai in mano la Coppa, ogni tanto veramente ve lo dico con grande calma, c'è gente che mi scrive che io penso che non esista nella vita reale, perché veramente le famiglie dovrebbero preoccuparsene seriamente, Skriniar fa parte del gruppo, ha fatto la foto come tutti con la Coppa Italia, quello che mi scrive non ha mai fatto parte di nessun gruppo nella sua vita e quindi non ci arriva proprio di cervello, ma al di là del fatto che bisogna essere sempre polemici come quello che evidentemente Andano invece è uscito con la sua fidanzata e lui l'ha scoperto, perché insomma il nostro capitano Andano invece è stato un grande portiere per tanti anni, io sono orgoglioso di averlo avuto a difendere la porta dell'Inter quando non eravamo così forti, certo adesso è anzianotto, lo capisce anche lui che non può più avere un ruolo da titolare, ma io sono contento che abbia alzato la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana a Riad e la Coppa Italia a Roma, perché sono affezionato a chi ha fatto nella sua vita professionale una parte di percorso con noi e qua bisogna sempre mettere a posto a suon di bastonate sui denti questi che sono incapaci di vivere in una comunità, i social hanno dato cittadinanza a ognuno di dire cose di cui probabilmente se li dicesse nella vita reale si dovrebbe vergognare, ragazzi ma sono, sapete io la gente mi dice ma non mi ignora di questi, ma io se già ne recupero uno di questi che dice ma tu se c'ha ragione il Gianluca, sono un po' un coglione, già io sono contento perché l'abbiamo recuperato alla causa nerazzurra. Allora cerchiamo di fare questo punticino con l'Atalanta ragazzi, no? Così poi a Torino si può fare naturalmente tutto il turnover che vogliamo, è chiaro che adesso la preparazione è sulla finale di Istanbul del 10 giugno. Avremo talmente tanti giorni, talmente tante persone che intervisterò per parlarne che vorrei andare su una cosa per volta. Allora già sul rinnovo di Inzaghi, allora non fraintendetemi, io per carattere sono uno che prende un allenatore, chiunque sia e lo fa lavorare per cinque anni, a me piacerebbe che fosse così. Adesso sembra che improvvisamente bisogna correre a rinnovare a Inzaghi che è già l'anno prossimo. Ho detto freniamo un attimo, finiamo la stagione, poi d'estate Spalletti ha dimostrato ragazzi che si può lavorare anche con un solo anno di contratto vincendo lo scoletto al Napoli, io sono favorevolissimo a Simone, ci mancherebbe, ho verificato la sua crescita, ma siccome a parte voi fuori, per cui basta il minimo pareggio casalingo e cominciate con l'unica parola alcuni di voi che conoscono, out, siccome anche la nostra società, perché ragazzi io faccio il cronista, ogni tanto è stata un po' nevrotica su questa vicenda, adesso non c'è bisogno di far cinque anni a Inzaghi, tu ce l'hai caratterialmente nel tuo DNA di volerti tenere l'allenatore a lungo, di mettere, di anteporre sempre la squadra nel bene e nel male all'allenatore, ma siccome non ce l'hai, è inutile adesso che corriamo quest'estate con calma, se Beppe, il mio amico Beppe Marotta per suo costume, per sua abitudine, preferisce avere gli allenatori che non abbiano un solo anno di contratto e lo rinnoveranno, io sarò la persona più felice del mondo, conscio naturalmente che al primo rovescio, e vabbè ho capito, ha vinto la E, vabbè ho capito, e poi anche queste classifiche, e Zanga adesso è il presidente più vincente dopo i Moratti, e adesso Inzaghi è l'allenatore che quasi ha vinto di più dopo Mourinho, naturalmente Mancini, ragazzi ognuno è figlio del proprio tempo, ognuno è figlio del proprio tempo, cioè ad esempio Trappattoni, se numericamente ha vinto meno trofei di Inzaghi, perché Inzaghi comunque ne ha raccolti quattro, che sono tanti, due Supercoppa italiana e due Coppa Italia, però il Trapp aveva vinto lo scudetto di 58 punti, una Supercoppa italiana e una Coppa UEFA, quindi numericamente i trofei sono meno, ma i trofei si pesano così come il triplete di Moratti o il triplete di Mourinho, sono cose che sono entrate nella leggenda, quindi numericamente complimenti a Steven Zaghi, complimentissimi a Steven Zaghi perché cinque trofei sono tanti, ma non facciamo questi raffronti continui, ognuno è figlio del proprio tempo, tanto Inzaghi con la terza Coppa Italia vinta può dire di aver già raggiunto Lidl, Bersellini e Nero e Orocco per numero di Coppa Italia vinte, che non è mica poco, però ragazzi basta con questi raffronti, ognuno è figlio del proprio tempo, io sono cresciuto con i Queen, con i Dier Straits, che cazzo, mica con i rapper di oggi, quindi sono anch'io un figlio dello scorso millennio, con questo vi saluto, mi raccomando Inter all'Atalanta, non discuto la formazione, ormai lascio fare a Inzaghi, cerchiamo di fare questo punto, meglio se tre, un saluto da Bologna, provo a fare un altro bagnetto qui in piscina e come sempre vi dico ragazzi, sempre più che mai viva l'Inter, ciao a tutti!